Ragazzi oggi siamo un nuovissimo video, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta La Juve è campione di Italia Po 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 Forza Juve per sempre, ce l'abbiamo fatta La Juve è campione di Italia Ieri, ieri, ieri sera che ha vinto contro la Lazio 2 a 1 Doppietta di Ronaldo, grazie a Ronaldo che abbiamo vinto Il campionato, grazie a tutti i giocatori della Juve che abbiamo vinto il campionato Forza Juve per sempre Sì Forza Juve per sempre Ieri Doppiata di immobile No Gol di immobile Doppiata da Lazio Sì La Juve ha vinto Lo scudetto Campioni d'Italia Poi vi porterò il video Dove Vuoi quando finirà la stagione Dove metterò le Le pagelle Ai giocatori della Juve Campioni d'Italia Ce l'abbiamo fatta Scrivete nei commenti Quale squadra ti fate E commentate Forza Juventus per sempre Bella